Nuovo appuntamento con l'informazione del TG7, buon inizio di settimana e ben ritrovati a tutti. Allora lo avete sentito dai titoli, la direzione investigativa antimafia, gli uomini della DIA da stamani in azione ad Agropoli. Dopo l'acquisizione di atti presso lo studio legale dell'ex sindaco Franco Alfieri, ora candidato a primo cittadino nel comune di Capaccio Pestum, sono stati effettuati altri controlli nella sede del municipio agropolese. Indagati sia l'attuale primo cittadino di Agropoli, Adamo Coppola, che Alfieri per voto di scambio. Ma per tutti i particolari ci colleghiamo con il nostro corrispondente da Agropoli, Ernesto Rocco. Buon pomeriggio Ernesto, allora raccontaci questa mattinata davvero turbolenta. Buongiorno, oggi è un vero e proprio terremoto qui ad Agropoli con un'attività investigativa da parte della DIA, la direzione investigativa antimafia dei carabinieri della compagnia di Agropoli, che hanno effettuato diverse perquisizioni ed acquisito atti relativi all'attività amministrativa, in particolare dell'ex sindaco Franco Alfieri e dell'attuale sindaco Adamo Coppola. Sembrerebbe, stando alle prime indicazioni, che entrambi siano finiti al centro di un'inchiesta per voto di scambio politico mafioso. L'attività investigativa è iniziata di buon mattino, infatti gli uomini della DIA si sono recati prima a Torchiara, presso la casa dell'ex sindaco Alfieri, poi insieme a lui sono giunti in Corso Garibaldi ad Agropoli, dove Alfieri ha il suo studio legale e qui hanno acquisito ulteriori documenti. Poi, sempre insieme ad Alfieri, si sono recati in un municipio e anche qui hanno effettuato controlli per acquisizioni e acquisizioni di documenti. Sentito anche l'attuale sindaco Adamo Coppola, le accuse sono molto gravi, quindi scambio politico mafioso di voti, una vicenda quindi che anche la popolazione segue con particolare attenzione, ma anche con grande sconcerto. In effetti questa mattina, intorno alle 8.39, il centro di Agropoli era invaso da diverse auto degli uomini della DIA, appunto gli uomini con la casacca della direzione investigativa antimafia che sostavano davanti lo studio di Franco Alfieri. Ernesto, dacci ulteriori dettagli su questo blitz della DIA d'Agropoli. Sì, ulteriori dettagli al momento non ve ne sono, non emergono. Quello che possiamo dirvi è che c'è il massimo riservo su questa indagine, che sotto i riflettori ci sono l'attuale, l'ex sindaco, quindi Franco Alfieri e Adamo Coppola, e che le perquisizioni e l'acquisizione di atti riguarda il municipio e appunto lo studio legale di Franco Alfieri, precedentemente la sua abitazione di Torchiara. Vi diciamo anche che questa è la seconda operazione da parte delle forze dell'ordine, perché ricordiamo che la settimana scorsa in municipio si erano recati anche gli uomini della questura di Salerno acquisendo tutta la documentazione relativa all'Agropoli Cilento Servizi, della società partecipata dal Comune di Agropoli, in particolare ponendo riflettori quindi su bilanci, assunzioni, acquisto di attrezzature, una serie di elementi quindi molto importanti per una società finita sotto i riflettori e sotto le critiche delle opposizioni perché ritenuto proprio un strumento anche per aumentare il proprio consenso in città. Sicuramente però ne sapremo di più nei prossimi giorni, ovviamente per Alfieri soprattutto questa è una indagine che arriva in un momento non proprio felice, visto che l'ex sindaco di Agropoli è attualmente candidato a Capaccio Pestum. Grazie al nostro corrispondente Ernesto Rocco, naturalmente vi daremo aggiornamenti su questa vicenda nel corso delle prossime edizioni del nostro telegiornale. Sono arrivate in merito le prime dichiarazioni da parte del sindaco di Agropoli, Adamo Coppola. Da qualche giorno esordisce Coppola in una breve nota diffusa alla stampa. Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno richiesto atti e documenti vari riguardanti i procedimenti amministrativi già conclusi da alcuni anni. Quest'oggi prosegue il primo cittadino di Agropoli, con le perquisizioni presso la mia abitazione e il mio ufficio comunale, tali operazioni possono dirsi terminate, in quanto detti operatori hanno redatto processo verbale di conclusione. Personalmente, prosegue Coppola, sono tranquillo e fiducioso nel lavoro dei magistrati. In riferimento agli atti che hanno visto la mia partecipazione, quale sindaco della città di Agropoli, chi osa il sindaco, rimango sereno in quanto la stessa è stata sempre leale, imparziale e legittima. E torniamo a parlare della notizia con cui abbiamo aperto questa edizione del telegiornale, il blitz della DIA ad Agropoli, perché c'è la dichiarazione dell'ex sindaco di Agropoli, Franco Alfieri, attualmente candidato a primo cittadino nel comune di Capaccio Pestum. Stamattina il mio studio legale ad Agropoli e la mia abitazione a Torchiara, sottolinea Alfieri, sono stati oggetto di una perquisizione da parte della direzione investigativa antimafia di Salerno. Mi dispiace, prosegue Alfieri, che queste attività investigative abbiano luogo nel pieno della campagna elettorale. Nell'esprimere, come sempre, la mia piena fiducia nel lavoro della magistratura, vado avanti a testa alta perché la forza di un uomo, chiosa l'ex primo cittadino di Agropoli ed anche consigliere del Presidente della Regione De Luca, la forza di un uomo è anche quella di reagire alle difficoltà e mettere ancora più energia e determinazione nel lavoro quotidiano.